Ciao a tutti e benvenuti alla sessantesima puntata di Petru Simbo al comando del Cagliari Calcio ed è una puntata importantissima perché oggi andiamo ad affrontare la grande Juventus una squadra che anno dopo anno continua a riuscire a mettere in mostra un livello di calcio soprattutto a livello difensivo di... non so neanche descriverlo perché questi bastardi riescono a passare una stagione intera senza subire più di 20 gol ed è una roba veramente incredibile perché succede quasi tutti gli anni quindi riescono anche se magari non sono tanto superiori a noi a livello realizzativo sono comunque devastanti in difesa e quindi riescono sempre ad avere quei due o tre a volte anche 15 come anno scorso punti in più e diventa un incubo per riuscire a prenderli perché se non li batti negli sconti diretti e se tu vai a perdere punti contro altre squadre allora vuol dire che ti metti in situazioni veramente difficili noi ovviamente siamo a meno due adesso se riusciamo a battere l'Udinese chissà magari riusciamo a mettergli un po' di pressione non dovrebbe essere difficile qua Valverde aveva l'occasione d'oro per andare subito in vantaggio al ventesimo qua pasticcio alla difesa però non esce niente dal calcio d'angolo qua Greenwood viene completamente falciato in modo abbastanza brutale e abbastanza non chiamato da stierra alta cioè poteva anche risparmiarsi sta cosa quindi non chiamato non chiamato vediamo un attimino cosa succederà qua perché comunque Tierney è rotto e noi non abbiamo un vero e proprio terzino sinistro in panchina perché per qualche motivo stupido mi sto accorgendo solo ora che abbiamo a Spilliqueta come panchina nonostante abbia 55 di velocità e dovremmo assolutamente metterci Marcello che si ok non è lo stesso un giocatore particolarmente rapido avendo una certa età però è comunque un giocatore nettamente più solido da Spilliqueta a questo punto del loro carriere quindi è un errore che devo assolutamente risolvere però per il momento non possiamo però Tonali va a conquistarsi un calcio di rigore regalato da Savarino un fallo stupido tra l'altro un fallo che mi viene da dire non sia neanche troppo duro però il rigore ci viene dato e noi andiamo a cercare di fare l'1-0 con il capitano Barella che rimane dopo tutto questo tempo il nostro rigorista migliore ed è tutto dire il rigore è perfetto però va detto ha comunque fatto anche il time finishing verde che sai è strano vederlo c'è un calciatore che fa il time finishing verde mi sembra quasi una cosa molto poco simulativa però ok campioni come si suol dire quindi andiamo a fare l'1-0 Barella sta comunque mostrando nell'arco della sua carriera con noi di essere un grande capitano un giocatore affidabilissimo qua James fa anche un gran bel tiro peccato peccato poteva essere uno dei gol più belli della sua giovane carriera andiamo a fare qualche ultimo cambio sperando di fare anche il 2-0 Valverde fa un tiro spettacolare e fa appunto il 2-0 dovrebbe essere chiusa così la partita non dovrebbe esserci via di scampo per l'Udinese a livello di insomma una lotta lunga e ardua con la zona retrocessione poi è anche vero che hanno fatto comunque una buona partita hanno difeso bene però tiri proprio zero adesso vediamo magari ne fanno uno fanno anche gol all'89esimo Udinese arriva qua con l'occasione Donnarumma anzi è la seconda parata se non sbaglio di Donnarumma in questa partita quindi veramente una partita a livello offensivo imbarazzante quasi imbarazzante quanto questo lancio di Donnarumma e lo stop di schiena di James qua sule dalla palla barella e finisce così 2-0 ripeto una partita che a livello di risultato può sembrare più o meno aperta ma in realtà la partita è stata totalmente dominata dal nostro Cagliari quindi poco da dire partita molto molto semplice adesso andiamo finalmente a fare una cosa che avremmo dovuto fare da tanto tempo perché io ho continuato a dimenticarmi del fatto che comunque possiamo fare appunto così possiamo mettere i giocatori giusti possiamo far giocare Zagnolo più spesso e cose del genere quindi è finalmente arrivato il momento di giocare con una squadra che ha vagamente senso anche se comunque mi sono accorto che continuiamo a dimenticarci di mettere McKennie porca puttana che schifo comunque sia contro il Pisa partita di Coppa Italia dovrebbe essere il primo turno che giochiamo se non sbaglio di Coppa Italia forse il secondo qua Reina mamma mia questo ragazzo continua a sorprenderci perché non fa solo gol ma fa anche gol molto belli questo può sembrare un tiro facile e più o meno lo è nel senso per un giocatore di livello è facile poi se ci provo io su un cross di Bacchisi ovviamente il tiro probabilmente mi esce schiacciato magari rimbalza per terra e vola sopra la traversa cioè ci possono essere tanti problemi tanti errori e invece Reina continua a mostrare nonostante di essere una 74 di overhaul di essere ben oltre quel livello quindi è un giocatore molto molto interessante ed è un peccato che finisce in qualsiasi modo vada a finire questa stagione che questa serie finirà qua quindi non so se eventualmente lo prenderemo in FIFA 21 però è sicuramente un giocatore molto molto interessante qua occasione per il Pisa che lo sfruttano tra l'altro bel colpo di testa hanno anticipato mi sembra Fernandez per fare l'1-1 qua molto molto imbarazzante Fernandez che doveva fare nettamente meglio in copertura però succede purtroppo contro fenomeni come i giocatori del Pisa in serie B tutto può succedere qua intanto Cutrone il giocatore che in queste situazioni risolve spesso la partita in queste partite di coppa quindi vanno fatti i complimenti addirittura l'ultimo video l'ho voluto mettere il titolo ad omaggiare il nostro super sub per eccellenza perché veramente è un giocatore che quando bisogna contare su qualcuno lui si presenta sempre mi ricorda molto Solskjaer ai tempi migliori anche anche Sharingham mentre qua il Pisa fa il 2-2 al 48esimo praticamente veramente una partita incredibile del Pisa e dicevo Cutrone mi ricorda molto Solskjaer e Sharingham ai tempi ai tempi d'oro del mio uomo unito che in sostanza insomma quando avevi bisogno di un gioco cioè quando avevi bisogno di gol potevi mettere loro due e un gol te lo trovavano quindi insomma parliamo di due giocatori che nella classifica marcatori di Premier League sono molto molto in alto scusate Sharingham ha giocato vabbè in tante altre squadre ha giocato nel Tottenham è stato un grande giocatore del Tottenham però Solskjaer ha fatto non mi ricordo quanti mi sa mi viene a dire almeno 97 però non mi ricordo la maggior parte li ha fatti da Panchinaro quindi Cutrone mi ricorda un po' quel Olegone e Solskjaer mentre qua eh sì l'ho detto un po' alla Manc Olegone e Solskjaer comunque 73esimo gol di Zagnolo 3-2 un altro giocatore che sta facendo molto molto bene è uno che potrebbe benissimo essere il titolare però Valverde sta facendo tantamente bene che mi viene anche male toglierlo mentre qua il Pisa un'occasione d'oro per fare il 3-3 ma questa volta schiacciano troppo il pallone cosa che ripeto sarebbe successo sicuramente ha messo un cross ti bacchisi e quindi la palla finisce alta e niente comunque è sempre bello avere un giocatore così come Cutrone che ti puoi affidare al 100% in qualsiasi situazione che sia partita in corso che sia a vincerti le coppe è un giocatore di prestigio immenso per noi perché veramente avere lui Fati e Reina che comunque ripeto ha un basso overall però è fortissimo avere loro è un sicuramente ci dà punti in più perché sapere che in Champions e in Coppa Italia possiamo mettere questi giochitori qua senza far stancare un minimo i nostri titolari ci dà un vantaggio immenso cioè guardate un po' qua nella squadra Pankinara abbiamo 2.86 e 1.87 quindi non si trovano molte squadre in giro per il mondo che hanno questo lusso e poi abbiamo tanti giochitori di esperienza come Spilicueta come Marcello come Sirigo eccetera quindi veramente una gran squadra ma adesso i titolari devono distruggere il Sassuolo qua Mbappé travolgente come al solito distrugge il terzino si inserisce in aria poi il portiere fa anche una parata possiamo dire non di alto livello però comunque il pallone l'ha preso e poi Mbappé sulla ribattuta è riuscito a fare il gol di testa qua Mbappé di nuovo è troppo forte poi quando è in fiducia veramente non puoi fermarlo Ferner qua fa una bella giocata Mbappé di nuovo rischia anche stavolta di segnare sul rimpallo però non ce l'ha fatto Pamecano si fa fottere il pallone da Martinez non credo che sia Lautaro però ha tirato da lontanissimo e no infatti non è Lautaro però tiro si poteva anche risparmiare questo Martinez qua un'altra occasione per il Sassuolo che comunque sta migliorando va detto e attenzione perché un'altra occasione questa volta Donnarumma è costretta a fare una bella parata era anche un bel tiro stavolta Sensi in aria gioca molto bene palo mamma mia due pali e poi giustamente la palla finisce in porta cioè dopo due pali la palla è comunque tornata a finire sui piedi del Sassuolo fino a quando hanno trovato l'angolo giusto e la porta completamente spalancata e sono riusciti a fare a fare l'1 a 1 imbarazzante ma benvenuti a FIFA mentre Greenwood in fuorigioco fa il 2 a 1 peccato peccato Mary Cash entra per il Sassuolo o forse c'era già non lo so Fati da un bel pallone dietro mamma mia che giocata Fati lo stesso come Cutrone l'abbiamo già detto è un giocatore che ci dà punti in più perché veramente esplosivo e rapidissimo dalla panchina può essere completamente infermabile con quella velocità con quella tecnica guardate un po' qua guardate se lo sposto no vabbè non si ha spostato non so perché mi ricordavo se lo avesse spostato però va bene così va bene così bel gol di squadra e finisce così 2 a 1 un'altra vittoria importantissima e adesso dovrebbe essere arrivato il momento della grande sfida contro la Juventus che per 3 stagioni su 4 che abbiamo fatto finora forse questa è la quarta comunque le ha vinte tutte tranne una sì in effetti penso che questa sia la quarta la quarta stagione abbiamo fatto una con davanti coso Simeone poi abbiamo fatto la seconda con Werner abbiamo preso parametro 0 l'anno scorso sì Werner era un po' un po' deludente e poi quest'anno il Werner che sta giocando quasi quanto il Werner della prima stagione che l'abbiamo avuto mentre qua andiamo a bloccare ogni cazzo di offerta per i giocatori perché mi sono rotto i coglioni di avere offerte nonostante abbia già rifiutato tutto quanto però stupidamente non ho mai messo il blocco guardate un po' qua quella è The Elements quindi hanno anche fatto ulteriori acquisti sicuramente a gennaio perché se non sbaglio nella prima gara lui non c'era vediamo un po' cosa cosa succederà questa volta al Juventus Stadium sicuramente non sarà una partita facile noi cominciamo benissimo con un'occasione d'oro di Barella però purtroppo col sinistro non è riuscito a sfruttarlo Valverde in aria trova Greenwood però trova anche il difensore ben posizionato poi Mbappé di testa costringe il portiere a fare una bella parata Bernardeschi in aria si gira ad Arthur che tira Donnarumma Paratona Paratona ad una mano veramente bravo Donnarumma Tielemans dalla palla Danilo il cross in mezzo finisce a Rashford una serie di pasticci e la palla rimane dritto sui piedi di Rashford quindi complimenti eSports come al solito quando serve tu riesci a fottere completamente il gioco e a rendere lo script fin troppo evidente perché veramente non è proprio possibile non è possibile guardate qua cioè tutti a terra Tonali che non mette la gamba poi Upamecano che cade io direi che quello è fallo perché veramente lo fanno inciampare eppure niente nessun fischio mai un fischio a nostro favore contro la Juventus in questi casi quindi molta frustrazione mentre qua Valverde ha l'occasione fallo 1-1 meno male al cinquantesimo 1-1 di Valverde gol importante perché ci rimette comunque in partita non dimentichiamoci che un pareggio quest'oggi non potrebbe cioè potrebbe anche non bastare perché andremo comunque ad essere sempre a meno 2 e la Juventus potrebbe anche passare il resto della stagione senza perdere punti quindi ci serve una vittoria preferirei perdere la partita piuttosto che accontentarci di un pareggio non possiamo accontentarci qua mamma mia Gabriel Jesus di testa che distrugge Sule ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando cioè Gabriel Jesus con tutto rispetto è un ottimo attaccante però cioè ha un fisico che dai non può battere Sule di testa dai guardate qua ok innanzitutto ha intercipato due difensori poi Sule minchia dai cazzo imbarazzante veramente imbarazzante sto gioco 2 a 1 per la Juventus però manca ancora un po' possiamo ancora andare a vincere questa partita andiamo a fare qualche cambio mettiamo Fatik con la sua velocità può essere determinante McKennie che rimpiazza un tonale molto stanco è un po' deludente e poi Zagnolo che magari può fare qualcosa con quel sinistro magico qua o Carlson e Werner all'86esimo fai il 2 a 2 ancora c'è tempo a questo punto direi la partita è stata molto tirata abbiamo avuto tantissima sfortuna perché veramente i gol della Juventus sono tutti stati diciamo colpiti da errori difensivi di giocatori che io non controllavo quindi questo mi dà molto fastidio però è un classico di FIFA mentre qua l'inserimento di Rabiot ovviamente Donnarumma esce a gambe larghe sembrando veramente una escort di bassissimo livello si fa fottere in malo modo e Rabiot fa il 3 a 2 che potrebbe essere il gol dello scudetto veramente veramente uno schifo uno schifo qua assolutamente uno schifo guardate qua era legge cioè l'ho letto io questo cazzo di inserimento di Rabiot e Donnarumma esce come una troia e Upamecano non fa assolutamente niente per marcarlo e finisce così 3 a 2 per la Juventus probabilmente la fine dei nostri sogni di vincere almeno una volta il campionato con la maglia del Cagliari se dovesse finire così sarà una grandissima delusione perché io ero convintissimo di questa squadra stracovinto però cerchiamo di non mollare ancora ci sono 17 partite tutto può succedere però è vero che insomma quei 5 punti di distacco dalla Juventus possono essere veramente incolmabili quindi vediamo un po' cosa si può fare intanto l'udinese ho sbagliato non è in giornata di tracessione anzi è ben oltre cioè molto avanti quindi mi aspettavo che fossero messi male invece sono messi piuttosto bene qua Werner capocannoniere però insomma non conta un cazzo se non vinci il campionato guardate qua guardate qua Gabriel Jesus Rashford Los Celso sono secondi terzi e quarto ma come cazzo è possibile comunque Werner 10 assist Gabriel Jesus Cesni 15 partite con clean sheet su 19 quindi pazzesco comunque grazie a tutti quanti aver visto il video spero che vi sia piaciuto e mi dispiace avervi delusi so che insomma ci tenevate sicuramente anche voi vederci vincere almeno una volta lo scudetto quindi avere tutti i trofei vinti in questa serie però non sarà facile tutto è possibile però non sarà facile quindi grazie veramente a tutti spero che vi mettiate like vi iscrivete al canale cliccate sulla campanina le notifiche e ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti